Oggi il Centro Documentazione per la Facce e altre organizzazioni pacifiste organizzano un'iniziativa che ha la mia completa adesione. Simbolicamente immaginano di portare dei pezzi di F-35, questi costosissimi aerei da guerra che il governo italiano intende continuare ad acquistare, spendendo risorse pubbliche preziosissime, portare dei pezzi, dei modelli di questi costosissimi aerei da guerra in una serie di centri, edifici, associazioni che invece hanno tanto bisogno di risorse, svolgendo dei servizi essenziali per la comunità. È un esempio di come esistono risorse che sono spese male per aerei da guerra e si potrebbero invece spendere molto meglio per i servizi sociali, per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Io come sindaco mi trovo costantemente a confrontarmi con problemi di questo tipo, scarsità di risorse per servizi pubblici essenziali e vedo anche che altre risorse sono spese male. Per questo dico no, no, no a spendere soldi in questo momento per gli F-35 e aderisco convintamente a questa iniziativa che non è solo per la pace ma è anche per il buon senso e per la civiltà.